Si è rimediato ad un'intollerabile ingiustizia ai comuni che sono stati dichiarati zona rossa con provvedimenti nazionali e regionali, adesso hanno tutti pari dignità. Lo ha dichiarato in una nota stampa Federico Conte, deputato di Libere Uguali, primo firmatario di un emendamento al decreto rilancio sulle zone rosse, che erano state escluse dal provvedimento del Governo, poi confluito in un emendamento unico che, col parere favorevole del Governo, ha appena avuto il via libera. L'approvazione della modifica in commissione bilancio, spiega Conte, su cui ci siamo spesi fin dal primo giorno, rimedia ad una grave discriminazione. Tutti i comuni italiani dichiarati zona rossa, tra cui quelli campani del Vallo di Diano, di Ariano Irpino ed altri, avranno sostegno e bonus e accederanno al riparto dello stanziamento di fondi, che vengono determinati in 40 milioni di euro. Bene il Governo ad aver capito la necessità di una correzione, termina Conte, dando il via libera alla modifica.